Ciao a tutti, benvenuti e bentornati in questo nuovo video interattivo. Il video di oggi ha come titolo Qualcuno o qualcosa sta per bussare alla tua porta. Variante 1 ametista, variante 2 occhio di tigre. Allora, iniziamo subito a scegliere la variante che più vi attira, che più vi piace e poi inizieremo con il video. Io quello che dico sempre è di scegliere una variante principale e magari ascoltare anche il resto, perché essendo un interattivo dovete prendere quello che risuona con la vostra situazione e il settore di appartenenza e lasciare andare il resto, perché quello che non risuona con voi risuonerà per qualcun altro. Vi ricordo di controllare sempre sotto ogni mio video, li trovate i miei contatti, dove potete contattarmi per avere informazioni e dove troverete il link al mio secondo canale dove vi invito ad iscrivervi. Iniziamo subito con la variante numero 1 per chi ha scelto l'ametista. Allora, andiamo a vedere subito chi sono i protagonisti di questa variante, per vedere se è la vostra o se vi ritrovate o se riconoscete qualcuno. Perché la variante potrebbe essere anche un messaggio che arriva a voi per qualcun altro. Allora, vediamo un po'. Abbiamo qualcuno in una fase un pochettino disperata, abbiamo una donna matura e abbiamo anche un sentiero da percorrere, qualcosa che ci denota una strada da percorrere. Andiamo a vedere quali sono le caratteristiche di questi due personaggi, cioè che tipi sono, che qualità o difetti hanno, sia chi si trova magari in una situazione un pochettino complicata, ecco, non diciamo disperata, in una situazione un po' complicata, chi ha a che fare con una donna un po' matura e chi ha da percorrere una strada, una scelta, ecco, chiamiamola così. Vediamo chi abbiamo. Abbiamo un soggetto originale e un soggetto protettivo per quanto riguarda la persona che si trova in una situazione un po' così, da sistemare più che altro, diciamo. Ecco, potrebbe anche essere una persona che si vede, cioè si, come dire, con voi trasmette un senso di protettività e di originalità, ma in fondo, in fondo, è una persona che sta magari un po' soffrendo. Ecco, poi abbiamo la donna, che è un soggetto molto determinato e impaziente. C'è un qualcosa che questa donna deve assolutissimamente portare a termine, è determinata nel portarla a termine, ma è anche abbastanza impaziente. E vediamo per quanto riguarda la strada da percorrere, perseverante e infedele. Perseverante magari perché appunto vuole arrivare fino in fondo in questa strada, ma infedele perché, diciamo, è perseverante ma non è determinato, nel senso è perseverante nel vorrere arrivare fino alla fine, ma è infedele, nel senso che potrebbe anche cambiare idea a metà percorso. Adesso andiamo a vedere con questi altri oracoli che cosa abbiamo per ognuno dei nostri tre soggettini. Potrebbero essere anche tutti e tre, diciamo, collegati, nel senso che c'è la donna matura che vuol far cambiare strada a un parente, a un figlio o a un qualcuno e questo si trova in una situazione un pochettino, come dire, complicata perché non sa a chi dare retta. Andiamo a vedere il tre di Gabriele. Sorge ricchezza da una pianificazione saggia e il momento di compiere il passo successivo, piani ottimistici fanno a buon fine, come ti aspettavi. Poi abbiamo nuovi inizi, hai inizio una nuova vita, trovi il tuo scopo, perdona il tuo passato e consideralo con compassione. E poi abbiamo il nome di Michele, non serve che ti preoccupi, focalizza i pensieri sul risultato che desideri, rimetti il rimpianto, il senso di colpa e la preoccupazione ai tuoi angeli. E qui abbiamo una situazione appunto che ci comporta un nuovo inizio, ci comporta un andare avanti, un avere successo in quello che andiamo a fare, piani ottimistici, e qua ci dice appunto che questa situazione o questa persona che sta per bussare alla vostra porta deve, o voi, vedendo questa situazione che si avvicina alla vostra vita, dovete in un certo senso non preoccuparvi di quello che sarà, ma guardare avanti e soprattutto guardare a un nuovo inizio, anche legato a quello che abbiamo detto prima, ai nostri tre soggetti. Bene, andiamo a vedere cosa ci dicono i miei meravigliosi oracoli. Vi ricordo che sotto ogni mio video trovate il sito di riferimento dove potete visionare le carte che io ho creato e anche acquistarle. Andiamo a vedere un po' che cosa ci dicono. Peso. Qui c'è una situazione che sta andando sul pesante, vi pesa proprio addosso questa situazione che state vivendo. Potrebbe essere anche una situazione di coppia, potrebbe essere un legame che diciamo non è soltanto a livello affettivo, ma potrebbe essere anche un legame a livello lavorativo, un qualcosa che riguarda anche la famiglia. E abbiamo appunto il pericolo. Il pericolo appunto che questo peso diventi una cosa non più gestibile. L'illusione. L'illusione che tutto vada bene, ma che invece appunto come dicevo qui la carta del disperato, ecco chiamiamola così, sembra che tutto vada bene. C'è un'illusione di normalità, di felicità, ma in fondo in fondo non è così. Si cerca di essere per quanto si possa essere indifferenti, però qua abbiamo appunto la caratteristica che da tempo si sta cercando ed è appunto il chiarimento. Quello che sta per arrivare nella vostra vita è una situazione o una persona che chiede un chiarimento o che farà diciamo da chiarimento in quello che riguarda un peso abbastanza pericoloso che c'è su una unione. Un'unione che potrebbe essere come ripeto a livello sentimentale, familiare, d'amicizia, ma anche personale con qualcuno di vostra conoscenza, un parente, qualcuno che diciamo la fa da padrone in questa situazione. Vediamo un po'. Qua abbiamo una regina di coppe. Perciò in questo momento voi siete la protagonista di questa stesa, se siete una donna, se siete un uomo la protagonista di questa vostra, di questo vostro ascolto appunto è una donna, una donna che è una donna amorevole, comprensiva, una donna che si protrae per gli altri, che tenta sempre di aiutare gli altri, ma che in questo momento è come se si desse un freno. Questo freno è dato appunto da questo re di pentacoli, questo re di pentacoli che fa da freno a questa nostra, a voi che siete una persona amorevole e che appunto non riesce a esprimere ciò che vuole. Cosa abbiamo a vostro favore? Abbiamo la fine di questa situazione, una fine completa che dà appunto inizio a un qualcosa di nuovo, perché ogni fine porta con sé un nuovo inizio, potrebbe essere anche la fine di una sorta di unione che c'è fra voi e il vostro diciamo re di pentacoli. Che cosa c'è all'origine di questa situazione? C'è una sorta di stabilità fittizia, una finta, come dicevano le carte sotto, illusione, una finta stabilità, un qualcosa di finto che si è portato avanti fino a questo momento. il consiglio delle carte è di guardare avanti appunto come dicevano anche le altre carte, guardare avanti, guardare avanti con ottimismo e soprattutto guardare avanti sulle proprie possibilità, col bagaglio culturale che si ha e di esperienza che si ha sulle spalle, perché sicuramente la fine di questa relazione ha portato in voi un cambiamento, con questo cambiamento potete diciamo proseguire la vostra vita e cambiarlo ed ecco qua il nostro sei di spade che vi trascina da una situazione abbastanza tortuosa come vedete qua una situazione un po' impetuosa con acque impetuose a qualcosa di più calmo e tranquillo. Io penso che qua c'è appunto la fine di una storia di una relazione, qui abbiamo appunto l'idea, il discorso che si fa diciamo questa sorta di unione che trova appunto giustizia potrebbe essere anche la sentenza a livello legale una volta che esce la giustizia e appunto qui abbiamo anche come dire un accordo fra queste due parti per quanto riguarda magari anche una situazione patrimoniale oppure un accordo per quanto riguarda una situazione familiare che sicuramente tende a finire. Perciò tutto quello che è il vostro problema in questo momento che riguarda la fine di un'unione che potrebbe essere un'unione matrimoniale sentimentale un'unione anche lavorativa troverà appunto largo spazio in un qualcosa che magari nella vostra mente sembra un peso sembra un pericolo ma che si risolverà nel migliore dei modi. Prima variante come sempre vi aspetto nei commenti mi è fatto piacere che avete ascoltato la variante fino in fondo prendetevi i miei contatti per info se voleste approfondire questa variante o un consulto con me io passo alla variante numero 2 eccoci qua con la variante numero 2 per chi ha scelto l'occhio di tigre andiamo a vedere chi sono i protagonisti di questa variante come sempre vi dico che io riassemblando i mazzi da una variante all'altra li mescolo davanti a voi così che possiate vedere che l'uscita di carte diciamo ripetute è semplicemente perché il destino vuole che voi abbiate quel messaggio allora vediamo un po' chi abbiamo qui abbiamo una famiglia una famiglia qui abbiamo un azzardo direi con questa slot machine e qui abbiamo una coppia questi sono i protagonisti della nostra della nostra stesa per la nostra seconda variante allora qui abbiamo appunto la carta della famiglia la carta della vincita dell'entrata di denaro e la carta degli amanti andiamo a vedere che caratteristiche hanno le persone che si ritrovano in questa in questa stesa vediamo un po' queste caratteristiche che possono essere negative o positive possono diciamo rapportarsi sia a persone ma anche a situazioni come dicevo prima ok vediamo un pochettino vanitoso qualcuno in questa famiglia soffre di vanità e qualcuno invece dominante potrebbe essere anche lo stesso soggetto vanitoso dominante poi abbiamo per quanto riguarda denaro ecco non parliamo proprio di vincita al gioco sì ci potrebbe essere qualche piccola vincita ma parliamo anche di soggetti che sono legati al denaro infatti abbiamo un soggetto autoritario e un soggetto superbo quello legato al denaro poi per quanto riguarda l'amore abbiamo generoso e suscettibile queste sono le caratteristiche che potete diciamo raffigurare o nella situazione o nella persona che vi ricorda diciamo una situazione di coppia una situazione di persone legate al denaro oppure qualcosa che riguarda la famiglia dipende sempre da voi ok come vi rapportate alle caratteristiche che escono nelle varie io do sempre la scelta di una variante ma come potete vedere io do anche scelta più scelte legate a una stessa variante in modo da abbracciare molte più persone che si possano ritrovare in questo in questo video ecco allora andiamo a vedere cosa abbiamo il 6 di Ariel i due bisogni materiali vengono soddisfatti in modi magici inaspettati atti di bontà dai ricevi con cuore riconoscente qui c'è un bello scambio un bel dare e avere uno scambio di doni potrebbe anche essere uno scambio di pensieri uno scambio di idee 8 di Michele puoi essere libero fai una scelta coraggiosa per cambiare la tua situazione non vedi le cose in modo lucido cerchiamo di non sentirci bloccati ok cerchiamo di non sentirci bloccati cerchiamo di essere più liberi possibili soprattutto a livello di pensiero e poi abbiamo il 9 di Michele non serve come la variante prima come vi dicevo appunto li mescolo davanti a voi perché come vedete questa carta diciamo si è ripetuta non serve che ti preoccupi focalizzi i pensieri sul risultato che desideri rimetti il rimpianto il senso di colpa e la preoccupazione ai tuoi angeli allora non c'è bisogno di preoccuparvi neanche per voi seconda variante cercate di essere un pochettino più liberi cercate di non sentirvi incatenati e soprattutto cercate uno scambio equo di dare e di avere anche semplicemente a livello di pensiero a livello di parole allora andiamo adesso a vedere con i miei oracoli oggi non mi dice di riuscire a come dire mescolarli in modo adeguato chiediamo un po' vediamo che cosa ci dicono i miei oracoli per questa seconda variante anche per voi seconda variante niente preoccupazione qua mi parla di azione passare all'azione avete la speranza che qualcosa si muova magari avete magari una situazione statica una situazione ferma di cui avete voi la speranza che si possa muovere un dolore che riesca a passare oppure un qualcuno che possa venire a pentirsi e cambiare atteggiamento verso di voi cambiare questa forma di di dolore che vi sta provocando ma qui vedo appunto che speranza e desiderio possono darsi la mano a vicenda qui c'è un'azione che deve essere compiuta per affrontare un cambiamento infatti non vi sentite non vi dovete sentire bloccati da quello che è questo dolore questo pentimento che state vivendo o che qualcuno vive in questa situazione cerchiamo di non sentirci appunto bloccati cerchiamo di dare il giusto peso e la giusta misura a quelle che è la realtà dei fatti soprattutto e cerchiamo di avere appunto speranza e desiderio di cambiamento oltretutto andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa andiamo a parlare quali sono le altre caratteristiche di questa stesa ok vediamo un po' vediamo che situazione presente abbiamo per la variante numero 2 oddio qua sono uscite le carte anche qui come potete vedere abbiamo la carta che parla del futuro dovete cercare in questo momento di vedere le cose in modo in prospettiva molto in prospettiva siete molto proiettati verso il futuro ma vediamo che cos'è che vi blocca vi blocca una sorta di problematica a livello monetario forse o c'è qualcuno della vostra famiglia che in questo momento ha bisogno di voi magari e non riuscite a capire se potete fare questo passo verso il vostro futuro oppure diciamo bloccarvi in questa situazione familiare ecco perché la prima carta appunto vi parlava di situazioni che riguardano la famiglia e la seconda carta vi parlava appunto di denaro allora cosa c'è a vostro vantaggio a vostro vantaggio c'è un un intrigo è con qualcosa che non è stato chiarito più che un intrigo c'è qualcuno che magari non è stato chiaro c'è qualcuno che ha portato via quello che serviva e ha lasciato quello che non serviva nel senso che magari c'è qualcuno che non ha parlato chiaro veniamo all'origine di questo problema ma qui abbiamo la carta della temperanza perciò secondo me qui a vostro favore ci può essere una situazione che voi dovete tenere un pochettino quelli che sono i vostri progetti quelli che sono i vostri pensieri qualcosa che riguarda il vostro futuro ecco tenetelo un pochino per voi ecco tenetelo un pochettino in un cassetto segreto fino a che non riuscirete a realizzarlo all'origine del problema secondo me c'è troppa predisposizione verso gli altri da parte vostra che vi ha portato a una situazione di blocco adesso cosa c'è le carte vi consigliano di meditare bene su quello che è stato un passato appunto troppo preso sotto gamba da voi e troppo preso diciamo a cavallo dagli altri perché ci sono state delle persone secondo me anche di famiglia che si sono diciamo cullati sempre sulla vostra presenza e adesso che voi volete andare via ecco che vi danno tante tante problematiche perciò la carta del consiglio è quella che vi dice di diciamo esaminare bene quello che è il vostro passato e proporvi per un futuro a vantaggio vostro e soprattutto come vi dice anche la carta del sette di spade e la carta della luna tenetevi questi pensieri e questi progetti per voi senza pentimenti abbiamo la carta di un nuovo inizio voi avete tutte le carte in tavola appunto per poter iniziare qualcosa di nuovo e di bello per voi senza sentirvi in colpa senza sentirvi da soli e senza sentirvi come dire pentiti di quello che potete fare per voi stessi è come se voi pensando a voi stessi aveste come un senso di colpa verso qualcuno che voi ancora pensiate abbia bisogno di voi ed ecco qui la carta del successo un successo che voi vi meritate ed ecco qui un'altra carta di successo il carro della vittoria perciò voi dovete prendere la scelta più adatta per voi stessi avete già dato per la famiglia avete già dato per tutti qualcuno ha apprezzato qualcuno no qualcuno diciamo adesso è come se lo pretende da voi ma adesso voi dovete pretendere qualcosa per voi stessi chiunque bussi alla vostra porta per una nuova richiesta chiudetela questa porta e pensate a scappare voi invece dalla finestra diciamo che questo è il vostro momento avete già dato e non c'è bisogno ancora di continuare a dare seconda variante come sempre vi aspetto nei commenti vi aspetto anche tramite i miei contatti chi volesse contattarmi può prendere l'indirizzo di posta elettronica il numero whatsapp io vi ringrazio vi saluto e ci vediamo al prossimo video